L'abbazia di Sant'Antimo si trova in posizione isolata sulla strada che da Montalcino, in provincia di Siena, raggiunge Castelnuovo dell'Abbate e la stazione di Monte Amiata, nella solitaria valle Starcia, a 9 km da Castelnuovo. Si tratta di uno dei più suggestivi monumenti dell'arte romanica in Italia, costruita nel 1100 su una chiesa preesistente che la tradizione afferma sia stata fondata da Carlo Magno. Sembra comunque che esistesse già nell'812. Del primitivo complesso, sorto come pare per volontà Carolina sul principio del IX secolo, rimangono nel piazzale esterno un lato del chiostro con una grande trifora appartenuta alla sala capitolare, gli stipiti e l'architrave finemente lavorati, che formano oggi la porta laterale dell'abbazia e gli stipiti della piccola porta dei battezzandi sul lato settentrionale. Essa fu una potente abbazia benedettina. Nel Medioevo il suo abate fu uno dei più influenti d'Italia e uno dei maggiori feudatari del senese, ma Pio II Piccolomini la soppresse nel 1462. La chiesa presenta un portale romanico, mentre il campanile è di forme lombarde, con due ordini di monofore, e c'è la campanaria a bifore. Una campana è del 1219. L'abside ad ambulacro semicircolare con cappelle raggianti costituisce la parte più caratteristica del tempio. L'interno a tre navate con matronei sulle arcate a tutto sesto è diviso da colonne monolitiche con capitelli a intrecci geometrici, floreali e figure di animali. Caratteristico quello raffigurante Daniele nella Fossa dei Leoni. Alcuni capitelli sono di onice locale. Alla sinistra del portale principale c'è un crocifisso ligno del 1200 e sull'altare una scultura ligno del 1100 raffigurante la Madonna col bambino. È possibile visitare anche la cripta rettangolare sotto la sagrestia e a tre navate forse del 1000. Sulla destra dell'abbazia rimangono pochi resti del monastero fra cui parti della sala capitolare.